film del 1962 per la regia di un grande dino risi che io giudico uno dei più grandi registi italiani per quanto riguarda la commedia cosiddetta commedia l'italiana degli anni 50 60 principio di anni 70 la marcia su roma la marcia su roma storico ricostruito in chiave ironica della cosiddetta marcia su roma del 22 l'anno prossimo ci sarà il centenario la marcia del fascismo quando il fascismo prese il potere anche con l'appoggio alla valla del re interpretata quindi da due grandi attori gasman e tognazzi che fra l'altro tognazzi è stato veramente aveva fatto veramente parte delle camicie nere di cremona che erano gli ordini di farinacci ai tempi e gasman e tognazzi qui interpretano 22 ex combattenti della prima guerra mondiale che dopo la guerra si trovano un po nulla tenenti e quindi per sbaccare lunario per cercare di trovare di trovare una via di risalire la china di dare un significato all'esistenza un lavoro di rifarsi una vita colgono al volo l'occasione della nascita del fascismo per cercare di intrufolarsi anche se non erano così pieni di ideali fascisti quindi un po per opportunismo per trovare uno sbocco pensando appunto che fosse nuovo come effettivamente sarebbe un lungo periodo di trovare quindi uno sbocco di trovare di cavalcare l'onda verso il fascismo di sistemarsi nella società è stupendo vederli nelle loro camicie nere col fez perché poi loro hanno sempre questo modo di fare tutte e due così simpatico simpatico ironico anche quando vogliono sembrare sembrare duri dei fascisti duri invece sono sempre simpatici ecco è memorabile quella scena in cui arrivano in una città e vanno a casa di un certo professore che aveva combinato qualcosa antifascista credo che allora loro per vendicarsi li fanno bere l'olio di ricino allora professore bisogna qua vedere il film beve quest'olio di ricino versa quest'olio di ricino in un bicchiere e gasma le dice più di più di più di più di più di più sempre in modo molto simpatico finché il professore lo riempie tutto fino all'orlo e gasma le dice ok così va bene stupendi tutti e due poi quando il professore lo beve loro dicono sì vai 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 ecco a posto grandiosi stupendi anche in questa piccola scena però la loro bravura è eccezionale e in questo film troviamo anche ci trovano anche altri attori mario brega mario brega l'attore fetticcio di verdone che sta lui di solito vuole in persona sempre personaggi duri cattivi 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 nel vero senso della parola che qua fa un fascista proprio fascista cattivo convinto di usare anche la violenza quando non serve e un fascista duro e puro che stava per uccidere uno dei due e dopo viene salvato quindi un mario brega nelle sue vesti quindi pseudo verdone di cattivo puro e questo è un film da vedere perché naturalmente come tutti i film storici a parte il fatto che è molto divertente perché toniazza e gas lo rendono divertente però ci parla di un di un passaggio di un passato della nostra società importante da studiare anche se non condivisibile per per molti però fa parte della nostra storia e spiega tante cose spiega a tanti significati sociali come si è formato il fascismo a chi aderito chi aiutò a favorire l'ascesa del fascismo e tante cose come era la società italiana di quei tempi come mai il fascismo ha potuto prendere corpo e da tante spiegazioni per chi vuole conosce la nostra società e sapere il perché perché di tante cose di questo periodo storico è un film da vedere da assaporare bravissimo di norisi perché riesce a miscelare riesce a unire bene la storia con invenzione attraverso la grande capacità attoriale dei due protagonisti un grande dinorisi quindi la marcia su roma da vedere da guardare da assaporare forse può lasciare l'amaro in bocca però gasman e toniazzi riescono ad addolcire la pillola alla fine loro si tolgono appunto dal movimento fascista e assistono delusi appunto secondo loro perché non rispecchiava i loro deali assistono a questa marcia su roma da spettatori un po scettici e in ogni caso quindi dei simpatici volta gabbana che cambiano idea come tante persone in ogni caso rispecchiano la natura umana adattevole che si adatta a molteplici situazioni allora marciate a vedere subito questo film la marcia su roma con due grandissimi attori grazie grazie grazie